Sono molto contenta di come sia andato questo concorso fotografico e dei vincitori che hanno partecipato in maniera molto attiva con le loro fotografie che sono state premiate. Io personalmente sono molto appagata che la mia iniziativa sia stata accettata dal Movimento Uniti per San Severo. Ho pensato a questo tipo di concorso perché concentrandomi sulla festa del soccorso e sulla nostra Madonna che è la patrona della città di San Severo volevo creare qualcosa di stimolante per i cittadini. Io ho immaginato, tutti quanti durante la festa scattiamo almeno una fotografia, quindi ho immaginato che fosse qualcosa di stimolante e queste iniziative servono come un modo per aggregare ancora di più la comunità. Io essendo appassionata di tradizioni folklore mi piace molto proporre questo tipo di iniziative. Sono contento di aver partecipato a questo concorso e sono onorato di averlo vinto. Nell'immagine che ho presentato al concorso la Madonna sfida le tenebre, ha un alone di luce attorno a sé e quindi è praticamente l'immagine della festa vera, la festa religiosa. La Madonna che porta luce in tutta la città sfidando anche le tenebre, ecco questo è quello che ho voluto rappresentare. Sono felice di aver partecipato a questo concorso fotografico inerente alla festa del soccorso ma inerente soprattutto a una cosa positiva per San Severo. Spero in futuro che venga riproposta questa cosa perché sono cose bellissime dove c'è il contesto sociale soprattutto. Io ho un centro estetico e ho premiato il quinto classificato e spero in futuro che ci siano altre partecipazioni a questi eventi.